Allora, signore e signori, ecco la nuova capolista Attenzione, colpo di scena Vi aggiudicate la partitissima? Eh vabbè, ma per la classifica è un colpo di scena La partita l'hai vista, il colpo di scena è stato Adesso siete voi i primi, complimenti Sono piccoli, ancora dobbiamo fare esperienza Sono ovviamente sportivi Tu posso vedere il numero 13 nostro Ho fatto un gran godo ragazzi Migliore in campo? Montenegro, Montenegro E tuzzolino E poi io dopo Abbiamo giocato bene tutti, abbiamo coperto, abbiamo pressato Ognuno ha fatto il suo gioco Finalmente abbiamo fatto una partita Ora Fabio è l'antidoping Adesso c'è la parte più dura E rimanere primi fino alla fine del girone Vabbè, noi ci proviamo Ok ragazzi, complimenti Ciao, ciao